Opere di pietà. Figlia mia, non basta aver ricevuto il battesimo per essere cristiani, occorre osservare la legge e compiere quelle opere che essa impone. La fede senza le opere è morta. Sono infatti le opere che danno gloria a Dio e che testimoniano la fede in Lui. Quando parlo di opere intendo soprattutto la pratica della pietà. Non confondere questa parola col pietismo, che non vale. Pietà è sinonimo di preghiera, di devozione, di misericordia, di compassione e di amore. Indirizzata a Dio, comprende l'adorazione, il ringraziamento, il domandare perdono per sé e per tutti e il chiedere grazie per sé e per gli altri. Questa pietà può e deve avvolgere tutta la vita del cristiano, che sa di dover amare Dio e tutto chiedere a Lui. La pietà rivolta ai fratelli è la pratica delle opere di misericordia, intesa come aiuto spirituale, morale e materiale. Lavoro, pane, casa, vestito, sono cose materiali che non sono finalizzate a sé stesse, ma che sono indispensabili. A chi ha fame, non puoi limitarti a dire, poveretto. Così a chiunque ha un reale bisogno materiale. Occorre manifestare la fede, è la pietà che ne deriva, con la partecipazione fattiva alla sofferenza del prossimo. La pietà è misericordia, che si trova in Dio in grado infinito. Dio aiuta tutti ed ha compassione di tutti. Chi ha fede deve comportarsi come Lui e non fare distinzione di persone. Ogni anima è amata da Dio ed è oggetto di cure amorose da parte sua. Ogni persona ti rappresenta Gesù e tu devi amare e avere pietà di tutti nel modo che ti ho indicato.